Affitti. Oltre 90.000 famiglie in difficoltà a Torino. Lo rileva la ricerca alla casa in Piemonte e disagio abitativo. Dall'indagine risulta che il 26% delle famiglie torinese in locazione vive in condizioni di disagio economico. In base ai parametri dell'Istat, il 17,5% di queste versa in stato di reale povertà. In tutta la provincia la percentuale degli affitti concordati è del 3,7%. È elevata la quota dei contratti non formalizzati e di quelli atipici, che insieme raggiungono quasi il 10%. La media complessiva dei canoni di locazione è di circa 630 euro mensili. La circoscrizione 1, relativa all'area del centro, è la meno accessibile, con cifre che si aggirano sui 780 euro mensili. Grazie a tutti.